E' arrivato il gladiatore, quindi si tratta oggi di scendere in campo in tutti i sensi e di vincere le battaglie. Credo che la squadra che si sta formando sia una squadra di gladiatori e speriamo davvero che il campo dimostri questo. Tante responsabilità, tante belle parole all'inizio, come è normale che sia, però queste belle parole bisogna poi tramortarle in fatti e questo sarà il nostro lavoro dal 18 in poi, lavorare per creare questo gruppo, per creare una stagione speciale, quello che vogliamo fare noi è essere ricordati sicuramente a Forlì per aver creato qualcosa di bello. Prima io adoro De Bruttini, che è come un fratello, nettamente il miglior compagno di squadra che abbia avuto da quando gioco, è una persona incredibile, sono felice di tornare a giocare con lui, ma sono contento anche di trovare Oxi e Danilo, magari Oxi non pronto da subito, magari più avanti, però so che anche lui alla fine ci darà una grossa mano. Abbiamo trovato il nostro condottiero, la mente e soprattutto l'uomo che darà il coraggio a questa squadra qui e sicuramente sarà un'aggiunta di una qualità che l'anno scorso ci è un po' venuta a mancare. La seconda cosa con Claudio che abbiamo aggiunto alla squadra è di avere finalmente un giocatore che apre un po' di più l'area, un po' di più perimetrale, cosa che non abbiamo avuto nelle due stagioni precedenti. Credo che Claudio, assieme al pacchetto degli altri lunghi, confezionato sia una garanzia per poter proporre una condizione difensiva sicuramente solida e dal quale probabilmente anche stare alla larga.